Siamo ormai alle parti dell'anno scolastico, devo dire che tutti quanti si sono molto adoperati, sia i comuni, gli enti locali in generale, in particolare appunto i dirigenti scolastici e gli insegnanti e il personale ATA affinché si potesse ritornare in sicurezza. Le linee guida ormai sono state definite dal Comitato Tecnico Scientifico, anche per quanto riguarda la didattica digitale integrata, che interverrà in particolare nelle scuole superiori per definire quali sono le attività didattiche specifiche nel caso in cui si debba proseguire da casa e anche in modalità mista. Emergono ancora delle criticità in particolare per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine, da registrarsi il fatto che molti genitori ma anche insegnanti sono preoccupati del fatto che nonostante ci sia un distanziamento di un metro statico si possano togliere queste mascherine, per alcuni insegnanti si rileva una pericolosità in questo anche nei genitori. In particolare anche l'utilizzo delle mascherine lavabili perché altrimenti saremo di fronte a una montagna di rifiuti e quindi si chiederà spiegazione al CTS rispetto a questo. In Regione Piemonte il Presidente Cirio ha chiesto di poter misurare la temperatura e controllarla, non solo a caso ovviamente tutti i genitori lo devono fare come richiesto dal Ministro, ma anche a scuola. Per questo vi sarà un stanziamento per dei termoscanner in modo tale che non si creino delle code e chiede appunto un aiuto da parte di tutte le istituzioni. Credo che anche le amministrazioni locali possano mettere in campo del personale in più per poter aiutare le proprie istituzioni scolastiche nella misurazione della temperatura. Credo che sia un impegno collettivo e ringrazio in particolare i sindaci perché hanno fatto uno sforzo veramente enorme anche per la definizione delle mense e quello che è correlato alla presenza degli studenti a scuola. È un avvio di anno scolastico particolare ma ci auguriamo tutti che si potranno superare tutte le criticità.